Beppe! 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 Bufi Bergamaschi! Beppe! Beppe! Manco in Africa! Beppe faccio un saluto ragazzi! C'è un manovale Bergamasco! Beppe! Guarda qui! Bufi Bergamaschi! Beppe! Te lo faccio saluto ai ragazzi di Beppe! 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 Eh scusa eh! Fai un panchetto! Siete quelli che tenete su mezzo a Italia ancora eh! Bergamaschi! Pagatevi l'Italia! Bisogna cominciare a stringere un po' i tempi e a ripresa 5 paesi! Così no! Così è meglio! Stiamo andando a bagno! Affrettiamo! Ringraziamo Renzi che stiamo... Consigliamo Renzi di affrontare questo telefono qui! Così ci dovrò postare! che fa le pensioni! Abbiamo mille giorni! Grazie! Togliti! Fatti vedere! Guarda la mano! Fatti vedere Vanessa! Che perché? Piano! 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 Ciao! Ciao! Ciao!